Abituatevi a perdere i vostri cari. La frase è da shock, molte famiglie perderanno i loro cari, ma la reazione è forse ancora più eclatante. Non faremo nulla, perché questa è la linea scelta dal governo di Boris Johnson, avanti come se niente fosse. La Gran Bretagna si smarca dal resto d'Europa, mentre sul continente i governi prendono misure sempre più drastiche, Londra letteralmente se ne lava le mani. Il consiglio fondamentale contro il coronavirus resta infatti quello di usare acqua e sapone. Chi ha sintomi è invitato a starsene a casa per una settimana, ma per il resto è business as usual. Niente chiusure, niente emergenze, la vita a Londra continua a scorrere normale e nessuno va in giro con la mascherina. Eppure il tono usato ieri da Johnson nel suo intervento a Downing Street è stato grave e solenne. Ha ammesso che il paese si trova di fronte alla più seria emergenza sanitaria in una generazione e che il numero reale dei contagiati potrebbe aver già toccato le 10.000. Ma ha insistito che prendere misure draconiane non farebbe grande differenza e potrebbe addirittura risultare controproducente. Il premier era affiancato dai massimi esperti scientifici e sanitari britannici che hanno spiegato che bloccare il virus è impossibile e che l'unica strategia è quella di spalmare la diffusione nel tempo in modo da consentire al sistema sanitario di gestire la situazione. Addirittura hanno sostenuto che non è desiderabile che nessuno venga contagiato perché è preferibile che la popolazione sviluppi da sei anticorpi al virus, un approccio che è stato criticato da più parti sia a livello sanitario che politico, ma che oggi il governo ha continuato a difendere. Intanto scuole e college restano aperti.